Benvenuti cari telespettatori, per questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email vallefoglia chiocciolarossinitv.it. E apriamo il nostro telegiornale parlando della presentazione del Munei Team di Valentino Rossi che debuterà il prossimo 6 marzo. Mercoledì infatti sono state svelate al Teatro Rossini le nuove moto e i nuovi piloti. Ci troviamo oggi davanti al Teatro Rossini, il Teatro di Pesaro, che oggi ha fatto da cornice alla presentazione del nuovo team di Valentino Rossi che lo vedrà nelle vesti di proprietario, un team che si chiamerà Munei VR46 Racing Team e che vedrà sotto l'ala protettiva del dottore quattro piloti, due in Moto2 e due in MotoGP. I piloti in Moto2 saranno Nicolò Antonelli e Celestino Vietti, mentre in MotoGP saranno Marco Bezzecchi e il fratello di Valentino Rossi, ovvero Luca Marini. Per me cambia tanto perché dopo tanti anni non corro più, non faccio pilota, però negli ultimi anni abbiamo sempre avuto il team in Moto3 e Moto2, però quest'anno avremo anche la MotoGP. Siamo molto eccitati perché comunque nella MotoGP è tutto più grande, tutto più di alto livello, devi preparare tutto bene, però siamo contenti perché nel nostro team ci sono un sacco di persone che hanno lavorato con me negli ultimi anni, tanta gente a cui vogliamo bene, tanti nostri amici del paddock e poi i piloti, i nostri piloti dell'Academy sono tutti molto forti, per Bezzecchi è il primo anno, Luca è il secondo, è il secondo, però è in formissima, si sta preparando bene e penso che sarà molto veloce quest'anno. L'anno scorso ho fatto un po' di battaglie in gara con Vale, ci siamo divertiti molto e quest'anno cerchiamo invece di lottare per risultati più importanti insieme, sarà molto bello e divertito. Un anno di gavetta ti è servito dunque per ambire quest'anno magari a qualcosa di più importante, arrivare magari tra i primi dieci in classifica oppure anche qualcosa di più? Mettere un target alla classifica di campionato è un po' presto sicuramente, però voglio lottare per ottenere qualche appoggio durante la stagione, anche qualcosa di più, il potenziale secondo me c'è, sono contento della squadra che ho e anche del supporto dei Ducati, ho parlato tanto con loro e cercheremo di sviluppare al massimo questa nuova moto e di portarla in alto come l'ho stato l'anno scorso, è sempre più difficile perché ogni anno il livello si alza di tanto, però anche io sto crescendo molto e mi sento pronto. Fa strano perché comunque io lo vedo ancora come un pilota a tempo pieno, diciamo a Vale, però sarà anche molto bello averlo nel box qualche gara perché lui ha tanta esperienza, ci può insegnare tante cose, quindi una bellissima fortuna. L'unica aspettativa che ho è di imparare il prima possibile, di cercare di mettermi giù col team, capire come guidare bene la moto, e raggiungere al più presto, step by step, i risultati che voglio raggiungere. Ti piace la moto esteticamente? Bella, bella, sì mi piace, è un po' diversa, eravamo abituati con Sky ad avere altri colori, quindi sono contento che l'abbiamo dato una rinfrescata e bella. Oggi nasce una collaborazione importante, perché è nata e quali sono i vostri obiettivi? È nata per unire Munei, il brand Munei, che è un'azienda nuova, dinamica, creata da noi due anni fa, con un team altrettanto nuovo, ma con le spalle forti e larghe come quelle del VR46. E crediamo che sia un progetto molto bello, perché corre in MotoGP, che è la serie numero uno, come sappiamo, al mondo, con dei piloti molto in gamba e soprattutto un team tutto italiano. Moto Ducati, team di Pesaro, tra Pesaro e Tavullia, piloti italiani e naturalmente sponsor italiano come Munei. Una collaborazione con Valentino Rossi che proseguirà anche con alcune novità? Assolutamente sì, abbiamo deciso di sviluppare questa partnership nell'ambito di iniziative in pista e fuori dalla pista, e tra queste appunto lanceremo una carta di pagamento, Munei VR46 è una carta co-branded per tutta la fanbase di VR46, per i fan di Valentino Rossi e in generale per il mondo del motociclismo. Una carta di pagamento che appunto associerà servizi finanziari, servizi commerciali e sarà veramente un prodotto di eccellenza. E passiamo ora ad una notizia di cronaca, visto che lunedì sera ha perso la vita a 57 anni un uomo di Tavullia che si è schiantato con la sua moto contro un cipresso in via Cassandro, strada che collega San Giovanni in Marignano a Fanano di Gradara. La vittima si chiamava Pier Giorgio Dorazio e abitava a 5 km dal luogo dell'incidente, da chiarire le cause di un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo e che ha ridotto la sua BMW a un cumulo di macerie accartocciate. E nella scuola elementare di Montelabate sono stati giorni turbolenti dove il tutto è stato alimentato da un caso di positività in una classe di seconda. Ad esprimere un suo parere sulla vicenda ci ha pensato il sindaco di Montelabate, Cinzia Ferri. Sentiamo. Sono giorni particolari qui a Montelabate, infatti noi oggi ci troviamo di fronte alla scuola elementare in Via Leopardi perché mercoledì scorso è stata riscontrata una positività da parte di un bambino di una classe di seconda al Covid-19. Da quel giorno le cose sono cambiate in questa scuola perché la preside ha imposto agli alunni, compagni di classe del bambino un risultato positivo e di indossare dal giorno successivo la mascherina FFP2. Cosa che non è stata fatta da parte dei bambini vista l'imposizione da parte dei genitori che hanno deciso di non fargliela indossare per due motivi. Uno è che il bambino risultato positivo si era isolato già due giorni prima della sua positività e quindi erano già scadute le 48 ore che scattava l'obbligo per quanto riguarda i bambini di indossare la mascherina FFP2 e inoltre la pericolosità di questa mascherina ovvero anche riconosciuta dal CTS del fatto che la mascherina non è omologata per i bambini più piccoli. Dopodiché venerdì la preside ha impedito agli alunni di poter entrare in classe a tutti quegli alunni ovviamente che non avevano indossato la mascherina FFP2. Il lunedì successivo poi le madri degli stessi bambini hanno protestato davanti ai cancelli protestando appunto contro la decisione della preside una decisione che è stata invece supportata e accolta in maniera positiva da parte degli altri docenti che 29 su 30 hanno supportato appunto la preside sostenendola. E sempre lunedì 21 febbraio i genitori hanno sport o denuncia alla preside dell'istituto sia per l'interruzione di pubblico servizio che per lesioni. Queste invece sono le parole del sindaco Cinzaferri che ha anche lei espresso una sua opinione. Questa vicenda sì che è successa lunedì mattina è incresciosa dove sono dovuti intervenire anche gli agenti della polizia municipale. La preside è un pubblico ufficiale come lo sono io e possiamo non essere d'accordo alle varie decreti alle normative che escono però le dobbiamo far applicare. Quindi io credo che lei si sia astenuta strettamente a quello che c'è scritto nelle disposizioni che sono state emanate dal governo. Il fatto che non esista una mascherina di questo tipo pediatrica forse è vero non lo so però non è colpa sua quindi bisognerebbe guardare anche il retro della medaglia magari se lei avesse concesso il permesso di entrare senza tenere conto di questa direttiva forse dall'altra parte magari gli altri genitori gli avrebbero fatto osservazione che non aveva applicato la legge. quindi bisogna un attimo stare attenti lei ha applicato sicuramente quello che c'è scritto nel decreto e il problema dove sta forse nella valutazione del contatto che era passato troppo tempo e quindi forse non occorreva non lo so questo lo dirà chi di competenza perché visto che i genitori so che erano accompagnati anche da un legale sono d'accordo sul fatto che uno debba protestare ma bisogna farlo con una certa educazione e soprattutto quando facciamo qualcosa dobbiamo pensare sempre questa cosa chi la sta guardando cioè fare vedere uno spettacolo del genere ai bambini penso che sia stato di cattivo gusto. E a Osteria Nuova si sono conclusi i lavori di installazione di una nuova area fitness all'area aperta un ampio spazio sorto in via Berlinguer a fianco del campo di calcio di proprietà del comune in cui sono presenti diverse attrezzature che permetterà a tutti gli amanti di sport di svolgere attività fisica. Una struttura che va ad aggiungersi a quella inaugurata pochi mesi fa in via Branca Montelabate confermando dunque l'idea del comune di investire sullo sport all'aperto. E il comune di Vallefoglia in seguito agli ultimi dati trasmessi dall'ufficio anagrafe del 31 gennaio 2022 registra attualmente 15.010 abitanti tornando quindi nuovamente a superare la soglia dei 15.000 abitanti. Viene confermata dunque una costante crescita che si è registrata già da mesi con l'aumento delle nascite, dei matrimoni e della stabilizzazione di nuove famiglie. Questa bella notizia per la città di Vallefoglia è la conseguenza di un incremento delle attività produttive, di nuovi insediamenti industriali e l'ampliamento di quelli già esistenti che possono creare occupazione, sviluppo e benessere. E in settimana il comune di Vallefoglia ha intitolato diverse piazze e vie a numerosi personaggi nazionali e locali. Vediamo. Noi abbiamo cercato in qualche modo di dare un'identità alla città e in questo caso abbiamo individuato una piazza che era già Piazza Europa a Morciola di Vallefoglia indicando come naturalmente previo accordo della famiglia e della procedura che va sul parere della Prefettura a David Sassoli. David Sassoli è un europeista convinto anche in questi momenti drammatici dell'Ucraina e probabilmente avrebbe avuto un peso importante nelle relazioni internazionali e poi un amico, devo dire, un diciamo conoscente illustre che mi sembrava giusto, opportuno dedicargli questo luogo. Sarà un luogo anche di iniziative sull'Europa, sul futuro dell'Europa, sul ruolo dell'Europa, delle città, dei territori, dei comuni. Ferro, professor Ferro, è un uomo che ha creato strutture per la coesione sociale, quello che su Vallefoglia va sotto il nome di Civitas Marche, importante verso le persone più anziane, più grandi, oltre 200 alloggi per persone non autosufficienti, per malati di Alzheimer, quindi ricordare personalità importanti e poi personalità locali, diciamo, che hanno comunque fatto una storia. Abbiamo intitolato, diciamo, al povero Don Mario, un parroco di Morciola che ha costruito la chiesa, ha costruito l'asilo, nido, oppure al geometra Mulasani che ha costruito un pezzo del comune di Colbordolo, che ha fatto delle cose importanti. Quindi dei momenti di riflessione, di costruzione e di identità di una nuova città come Vallefoglia. David Maria Sassoli ha avuto anche l'occasione di poter venire qui a Morciola. Quali sono stati gli incontri che avete avuto? Ma gli incontri sono stati tanti, direi. È venuto nel Monte di Colbordolo per una manifestazione politica. È venuto durante la campagna elettorale per le amministrative, perché diceva lui Palmiro porta fortuna, ma in verità era un compagnone, uno che stava bene in compagnia, un tipo simpatico, brillante. E poi è venuto durante un altro periodo in cui fummo insieme candidati al Parlamento europeo. Poi è venuto a Pesero, insomma aveva un legame, ogni tanto ci sentivamo, anzi ma ha promesso sarebbe ritornato a far visitare Vallefoglia. Ahimè purtroppo c'è stata questa perdita che è stata per noi doppiamente dolorosa, dolorosa dal punto di vista delle relazioni umane, personali e dolorosa sul piano politico. E Rossini TV seguirà prossima settimana come speciale televisivo l'inaugurazione della nuova gestione delle Conad City di Tavuglia. Mercoledì 2 marzo alle ore 9 verrà infatti inaugurata la nuova apertura del centro commerciale in Via Pergolesi 2, dove le nostre telecamere si accenderanno per riprendere le novità e i cambiamenti della nuova attività. E dopo due anni di stop riparte a suon di musica e travestimenti il Carnevale di Rio Salso. Lunedì 28 febbraio la festa in maschera si svolgerà presso il centro di aggregazione giovanile dalle ore 15.30 alle ore 18.30, dove ci saranno tantissime attività per bambini e ragazzi, dal laboratorio di cucina al gioco della pignatta con musica e tanta allegria. E concludiamo ora parlando di sport partendo dalle Olimpiadi Invernali, concluse dall'Italia al tredicesimo posto con ben 17 medaglie. Ai giochi di Pechino è stato protagonista anche Alex Pagnini, 27enne di Gradara, che sabato 19 e domenica 20 febbraio ha gareggiato nella disciplina di Boba 4. Alex, che faceva parte del secondo team insieme a Variola, Mircea e Obou, ha chiuso al penultimo posto classificandosi 27esimo. Meglio ha fatto il primo team italiano che ha concluso la quarta e ultima manche al quindicesimo posto. Nella pallavolo invece la Megabox Vallefoglia è uscita a testa alta da due partite casalinghe complicate ma da un epilogo diverso. Domenica 20 febbraio la squadra di coach Bonafede ha trionfato per 3-7 a 0 contro Casal Maggiore, vincendo una partita importantissima in chiave salvezza. Mercoledì 23 le Tigri sono nuovamente scese in campo al Palacarnaroli di Urbino per il recupero della quattordicesima giornata, dove di fronte si sono trovate le campionesse di Conegliano. Il peggiore degli avversari ma la Megabox è andata vicino all'impresa perdendo solamente al tie-break. Nel calcio locale è arrivato nel weekend l'ennesimo pareggio stagionale per l'Atletico Gallo, che contro la San Giustese non è andata oltre lo 0-0 casalingo. Stesso risultato anche in promozione, dove il derby tra Valfoglia e K-Sport e Montecchio è terminato a reti bianche. Un punto a testa che agli ospiti ha lasciato la mare in bocca, non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica per più di un tempo. In prima categoria invece è arrivata una rotonda vittoria da parte dell'Atletico Tavuglia, che davanti ai suoi tifosi ha battuto il Muraglia per 3-0. Senza reti è invece finita la sfida tra Osteria Nuova e Piobbico, con la classifica che ora vede i padroni di casa a un punto sopra la zona play-out. E con lo sport si conclude questa nuova edizione delle Valfoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.